Lecce, 5 febbraio 2005. Durante i lavori di ristrutturazione di un antico palazzo nel centro storico della città vengono rivenuti nei sotterranei i resti di una giovane donna sconosciute. Il prezioso rosario che stringe tra le dita potrebbe forse rivelare la sua identità. L'iscrizione presente sulla medaglietta del monile rimanda all'ancilla Domini, un collegio seicentesco poco distante dal quale in una notte d'estate del 1938 due studentesse, Miranda D'Amelio e Celeste Barsi erano svanite nel nulla insieme a Guido Alatri, il loro affascinante maestro di musica di origini ebraiche.